E' vero che sei super veloce? Lo vedrai, farò a fettina in meno di un secondo. Sempre che tu riesca a prendere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Fa pure del tuo meglio, soldato! Non ti lamentare se finirai in partita. Grazie per la visione!